le subito gli iscrive compresa nel pacchetto antonio con faccino però con faccino non faccio da te antonio gli iscrivono di di quanto scrive a cazzo di quanto scrive a cazzo duro fa un po perdere di valore ma non fa niente ma lei ti voglio dire cosa ha fatto io con il conto agli altri ragazzi è contento per il tuo canale non ti preoccupare tutta tua tutta tua ragazzi oddio 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 che gollo bravo che palle che palle che palle che palle che palle